I nidi comunali di Pordenone accolgono bambini dai 3 mesi e 3 anni divisi per fasce d'età, il nido Germoglio di via Oronzo e il nido Aquilone di via General Cantore. Entrambi i servizi sono aperti da luglio a settembre per 42 settimane, più due settimane di nido estivo, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13, con possibilità di prolungamento fino alle 16, su richiesta delle famiglie e verificando la disponibilità del servizio. Un valore aggiunto è rappresentato dalla cucina, infatti in entrambi i servizi è prevista la preparazione interna del pranzo. Il menu autorizzato dall'ASFO potrà essere modificato per esigenze particolari. La retta è calcolata a seguito della presentazione dell'ISE ed è possibile personalizzarla all'importo con un indicatore inferiore a 30.000 euro. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito del Comune.